Sottosegretario, mi racconta l'emozione di quando ha saputo per la prima volta che sarebbe diventata sottosegretario con il governo di Giorgia Meloni? Un impatto emotivo pesantissimo, perché io non avevo questa aspirazione, non avevo questa aspettativa e mi sono ritrovata sottosegretario nel giro di poche ore. E quando Giorgia Meloni mi ha telefonato personalmente per comunicare a me questa notizia, l'ho vissuta con una grandissima emozione. Ci ho messo forse una quindicina di giorni a smaltire questa tensione. Sono riuscita a non dormire e non mangiare per un bel po' di giorni. Sottosegretario